Musica Ancora buona serata gentili telespedatori di Teleantenna edizione di Udine Pordenone del telegiornale Subito parliamo di cronaca, andiamo in provincia di Pordenone a Sacile, parliamo di una rapina sulla quale stanno indagando gli investigatori attraverso il DNA dell'aggressore Sono stati infatti trovati dei mozziconi di sigaretta, sentiamo Potrebbero essere i mozziconi di sigaretta trovati dagli investigatori nella casa della ventenne romena a dare una svolta alle indagini e a permettere di identificare attraverso il DNA l'uomo che l'ha presa bastonata e derubata di 4.000 euro A prelevarli dall'appartamento al secondo piano di una palazzina in via Mameli sono stati i carabinieri di Sacile che, coordinati dalla procura pordenonese, stanno cercando di dare un volto all'aggressore ed inquadrare l'ambiente nel quale si è sviluppata la rapina La ragazza, una ventenne robena, è messa le sue iniziali e ancora ricoverata al Santa Maria degli Angeli in osservazione, prognosi di 15 giorni, ma in fase di valutazione del trauma alla testa Un episodio violento che ha destato clamore e timore tra i residenti della zona La ventenne che vive da poco nell'appartamento di via Mameli, ieri è stata sentita dagli investigatori, ma non avrebbe saputo fornire le generalità dell'uomo al quale ha aperto la porta lunedì intorno alle 15 pur confermando di conoscerlo e che si tratta di un suo connazionale La giovane lo ha fatto accomodare, probabilmente ci ha scambiato qualche parola, magari fumando una sigaretta Poi l'aggressione, l'uomo ha preso abbastonate la ventenne colpendola ripetutamente sulla testa e sul corpo Infine ha preso 4.000 euro in contanti che si trovavano nell'appartamento, evidentemente sapeva che c'erano e dove trovarli ed è fuggito a bordo di un'auto scura, probabilmente un SUV La giovane romena è stata subito a soccorsa e trasportata al Santa Maria degli Angeli di Pordenone mentre i carabinieri davano vita ad una caccia all'uomo che è proseguita anche ieri Chi è l'aggressore? Chi è la giovane aggredita? In che ambiente è maturata la rapina? Tutte domande alle quali stanno cercando di dare una risposta ai carabinieri ed in tempi rapidi Lutto nella collinare friulana per la morte di Manuel Graziani, una giovane di Tarcento, di 26 anni che nella prima serata di ieri stava transitando lungo la strada del lago a Trasagis un tratto viario tristemente noto per questo genere di schianti quando per cause che restano a stabilire il giovane ha perso il controllo della sua due ruote su cui stava viaggiando la motocicletta è finita sotto il guardrail, il ragazzo ha riportato ferite gravissime a dare l'allarme facendo così a correre sul posto il personale medico del 118 sono stati gli amici che erano con lui e alcuni automobilisti di passaggio il 26 anni è stato quindi trasportato di urgenza all'ospedale di Udine dove i medici hanno fatto l'impossibile per cercare di salvarlo purtroppo per Manuel non c'è stato niente da fare sul posto anche la polizia stradale per i rilievi c'è la nuova allerta meteo invece in Friuli Venezia Giulia con possibili problemi anche nell'area del Pordenonese Addio estate, da questa sera fino a sabato sono infatti previsti temporali e rovesci anche di forte intensità con un progressivo ma costante calo delle temperature che anche ieri hanno superato i 30 gradi in gran parte della provincia si ritornerà sui valori normali per l'inizio di settembre la protezione civile regionale ha diramato un allerta meteo che riguarda anche il Pordenonese sottolineando possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano locali fenomeni di instabilità, nei pendii locali, interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali motivi per i quali la protezione civile raccomanda la massima vigilanza sul territorio anche in concomitanza con eventuali manifestazioni all'aperto per predisporre tempestive misure di pronto intervento da oggi il tempo cambierà, conferma il meteorologo dell'OSMER Livio Stefanutto dato che l'anticiclone caldo tende a ritirarsi lentamente verso i Balcani sono previsti temporali che in alcune zone potranno essere anche molto forti dalla pomeriggio sera di oggi dunque aumenterà la nuvolosità e non è escluso qualche locale rovescio temporalesco domani cielo da poco nuvoloso e variabile e dalla tarda serata possibile peggioramento venerdì rovesce temporali che determineranno piogge da abbondanti ad intense e sabato in montagna avremo cielo nuvoloso con piogge abbondanti mentre su pianura e costa nuvolosità variabile con probabili rovesci e temporali con temperature che uscilleranno tra i 17 e i 24 gradi e restando il tema di temperature si scopre che questo agosto non è stato affatto il più caldo da decenni anzi negli ultimi 20 anni ce ne sono stati almeno 4 più torredi di questo 2015 e anche l'estate in generale non è stata da record per quanto riguarda l'AFA nel 2003 infatti abbiamo patito temperature ben più calde come in molti ricordano arrivano le telecamere che leggono le targhe nel comune di Porcia il comune chiede i contributi alla regione per l'installazione di 4 videocamere in grado di leggere le targhe ai principali ingressi al centro storico e all'area artigianale e industriale di Pieve e Talponedo già a video sorvegliati e altre 4 in punti ancora privi di controllo l'intervento è uno di quelli inseriti nella domanda di finanziamento presentata a Trieste in materia di sicurezza lungo la Pontebana sono infatti presenti 3 ingressi via della Ferrovia, via Sant'Antonio e via Gabelli vigilati da altrettante telecamere e un altro impianto si trova in via Pieve nei pressi della bretella autostradale proprio quest'ultima e la Statale 13 rappresentano i principali punti di accesso alla città per gli autori di furti e rapine in abitazioni, esercizi commerciali e aziende delle zone artigianali ed industriali le attuali postazioni di video sorveglianza monitorano sì il traffico in ingresso e in uscita ma non sono in grado di allertare le forze dell'ordine in caso di passaggio di veicoli già segnalati di qui la necessità già evidenziata più volte anche in consiglio comunale di rafforzare i controlli con videocamere in grado di leggere le targhe in ingresso alla città e di inoltrare immediatamente le segnalazioni alle forze dell'ordine il costo dell'intervento è stimato in 39.296 euro altri 63.147 sono invece necessari per realizzare altrettanti nuovi impianti di sorveglianza con lettura targhe in altri punti chiavi sempre al fine di garantire una maggiore sicurezza alle aziende insediate in zona industriale all'ingresso della bretella autostradale in via Maestri del Lavoro e via del Laghetto in ingresso da via Pistoia in via del Laghetto e in ingresso da via San Rocco alla zona artigianale e industriale di Pieve e Talponedo a questo si aggiungono altre spese in materia di sicurezza per le quali il comune ha inoltratto richiesta di contributo 20.000 euro serviranno per la sostituzione di una delle 5 vetture in dotazione al comando della polizia locale che necessita di continui interventi di riparazione 13.000 a 0,98 per la manutenzione ordinare dell'attuale impianto di video e sorveglianza 20.000 per l'acquisto di nuove divise per gli agenti 8.000 per attività educative contro bullismo e cyberbullismo La cronaca che ci porta a parlare ancora di gente che automobilistiche di fatto guidano senza la patente è successo ancora a Pordenone addirittura era con una patente falsa sentite Un fenomeno che si sta estendendo a macchia d'olio generando preoccupazione non solo tra le forze dell'ordine automobilisti che in barba al codice della strada si mettono al volante senza aver mai conseguito la patente magari esibendo un documento falso altri ancora viaggiano privi di assicurazione o ignorando la revisione obbligatoria del veicolo un vero e proprio ginepraio dal quale quotidianamente tentano di districarsi i carabinieri agenti della polizia stradale e locale ed è proprio quest'ultima che grazie anche alle nuove tecnologie in dotazione che leggendo la targa dell'auto scoprono se in regola sta effettuando dei controlli mirati sul territorio comunale l'ultimo caso riguarda una Ford Focus fermata ieri intorno alle 11 mentre transitava in via Dante in centro città alla guida c'era una donna romena accompagnata da due connazionali la pattuglia della polizia locale le ha chiesto i documenti di guida e la donna ha esibito una patente romena che da quanto accertato dagli agenti era falsa a quel punto all'automobilista è stata contestata la guida senza patente oltre all'esibizione di documento falso e il veicolo è stato sottoposto a fermo di 30 giorni e di qualche giorno fa un caso analogo che aveva visto protagonista un cittadino ivoriano fermato dai carabinieri durante un controllo notturno era alla guida di una vettura pur non avendo mai conseguito la patente Vittorio Boen parla di comunità e ribadisce come è importante avere il senso del patrimonio locale siamo con il consigliere regionale Boen di Codroipo del Friuli Venezia Giulia nel suo intervento oggi qui a Preccenico un elemento importante di architettura rurale il cosiddetto canevon nel suo intervento ha sostenuto questa tesi l'importanza della partecipazione del basso per poter realizzare queste iniziative Sì, allora ci sono a mio avviso alcuni elementi necessari perché iniziative così belle, così interessanti così anche suggestive possano trovare poi un futuro sicuramente il primo, quello che ricordava lei adesso la partecipazione del basso cioè la percezione, il senso che le comunità locali debbono avere del patrimonio dell'importante patrimonio che hanno a disposizione ce n'è però un secondo altrettanto importante che guai se dimenticassimo cioè se lo dimentichiamo ci creiamo soltanto delle illusioni è che tutti questi percorsi, questi progetti debbono ricercare da subito anche una sostenibilità è bello avere delle suggestioni, è bello avere delle idee guai non le avessimo perché se no abbiamo delle idee non cresciamo queste idee devono essere accompagnate da una capacità di pensare come possono essere sostenibili allora io credo che le collaborazioni con le università qui in particolare la UOV di Venezia ma sono coinvolte anche le università del Friuli Venezia Giulia di Udine e di Trieste deve accompagnare queste relazioni, questi studi deve accompagnare queste amministrazioni nelle 11 amministrazioni che in questo progetto si sono messe vicine con una capacità di suggerire progetti sostenibili che stanno in piedi se così è il nostro patrimonio potrà essere valorizzato e come accade in tanta parte dell'Europa poi anche ricercato e visitato quindi il fiume Stella è un importante fiume solo per non tanti mesi fa è stato trovato un, chiamiamo così, un reperto storico importantissimo, una nave di Percenico una nave romana del periodo 1000 all'incirca quindi questo è sempre stato un territorio di grande viabilità fluviale quindi dal punto di vista turistico Canevon, Lancia del Fiume Stella possono giocare nei rapporti con Lignano dal punto di vista turistico un ruolo importante Allora, lo dicevamo prima credo assolutamente di sì direi quasi a prescindere da Lignano non che si possa prescindere da Lignano ma a prescindere dai grandi luoghi di turismo di massa dobbiamo scoprire, riscoprire il turismo emozionale come si dice adesso cioè il turismo quello che ti porta vicino alle cose vere alle cose autentiche perché sono quelle che la gente adesso cercherà sempre di più forse abbiamo piacere delle grandi città delle grandi spiace ma abbiamo più piacere di scoprire l'autenticità Lo Stella è un esempio di questo è un esempio di autenticità è un esempio di vita che si è strutturata attorno appunto già dall'epoca romana in avanti E ora parliamo di montagna o più che altro dell'area appunto in cui c'è anche Montellale Valcellina con Cristina Querin che parla di sport che viene promosso attraverso le associazioni per i disabili Siamo con l'assessore Cristina Querin assessore a commercio e turismo del comune di Maniago Anche i comuni vicini si sono fatti carico di una partecipazione e di un padrocino a questa serata speciale dedicata a Valcellina Forsla Come mi diceva prima ci sono tante altre attività che anche nel comune di Maniago sono state vissute sempre di sostegno al sociale Ci può dire qualcosa? Sì, certamente è stato un anno molto importante questo in relazione alla promozione dello sport e la disabilità perché assieme proprio anche all'associazione Asla e alla Lega Handicap abbiamo promosso delle grandi iniziative per la promozione dell'attività ciclistica abbiamo avuto la Coppa del Mondo di Paraciclismo nel territorio di Maniago ma che ha coinvolto tutto il territorio circostante nonostante anzi i comuni vicini veramente hanno risposto con grande entusiasmo all'accoglienza delle persone diversamente abili nel nostro territorio che l'hanno apprezzato sia in termini di accoglienza turistica che anche proprio per l'attenzione e l'affetto che gli è stato dimostrato proprio dalla popolazione quindi entusiasmo ma anche presenza le amministrazioni quindi sono vicine a queste problematiche di sostegno alle persone che hanno bisogno per cui il comune di Maniago in prima fila prima fila a sostegno anche delle associazioni nel vostro comune è un'attività molto sentita? Sì le associazioni sono innumerevoli le associazioni che si occupano di disabilità fanno veramente delle attività molto importanti ricordiamo appunto Asla ma anche Lega Handicap ogni anno coinvolgono molte persone sia nel sostegno ai propri obiettivi sia nell'organizzare attività proprio per rendere visibile la propria presenza appunto nel territorio in questo l'amministrazione comunale non si è mai tirata indietro proprio nell'appoggiare questa iniziativa e nell'essere sempre presente Nella bassa friulana a Precenicco invece si parla di territorio e si ribadisce come il territorio c'è il desiderio di vivere in questa area che va valorizzata sentiamo Siamo con il sindaco di Precenico nel suo intervento di chiusura nella così mostra sulla presentazione da parte dell'Uav di Venezia della manutenzione del recupero del Canevon ecco lei ha fatto un passaggio molto importante il Canevon la chiesa il territorio il fiume porta con sé una forte nostalgia soprattutto per coloro che sono lontani e che sono emigrati sia con la valigia di cartone e sia con la valigia elettronica certamente tant'è che molto spesso è più forte il legame di chi dei nostri cittadini è andato in città o è andato all'estero per trovare fortuna che noi che siamo qui a vivere quotidianamente questi luoghi e questi momenti ed è un peccato perché è un territorio ricchissimo di monumenti di archeologia come ce lo dimostrano anche i recenti scavi e le recenti scoperte di enogastronomia e di cultura ed è il nostro intento è quello di cercare insieme alle altre comunità del territorio di renderlo fruibile a tutti oggi oggi avete approvato lo statuto della vostra UT del vostro territorio siete riusciti a portare all'interno dello statuto qualche elemento anche di carattere culturale che faccia riferimento a quanto lei poc'anzi ha affermato abbiamo cercato insieme agli altri colleghi sindaci di trovare una sintesi che potesse andare incontro alle esigenze di tutti i comuni e di tutte le diversità perché le diversità noi riteniamo che siano una ricchezza del territorio e non un diciamo così un problema da omogenizzare anzi il nostro intento è proprio quello attraverso gli organi dell'Unione di riuscire a essere sempre presenti nel territorio e arrivare a dare servizi sempre migliori ai nostri cittadini rimanendo nella bassa andiamo a Lignano parliamo di cronaca c'è un nuovo locale che finisce nel merino della questura questa volta a chiudere è il mister Charlie scoppia una lite tra avventori e un'altra discoteca di Lignano sabbia d'oro si vede imporre uno stop temporaneo all'apertura a fare le spese della linea dura a toleranza zero decisa dal Viminale con la stretta sulla movida nei locali notturni è stata questa volta la discoteca mister Charlie di Lignano Liviera a cui il questore di Udine Claudio Cracovia ha imposto uno stop di 5 giorni il provvedimento di sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 100 del TULPS per ragioni di ordine e sicurezza pubblica è stato notificato ieri ai titolari della PASI la polizia amministrativa della questura di Udine alla base della chiusura temporanea vi sarebbe una lite scoppiata nei bagni del locale il 29 agosto e in cui sarebbero state coinvolte 4 persone tutte maggiorenni nella lite sarebbero spuntate anche alcune bottiglie di vetro e due persone avrebbero rimediato ferite al volto e alle braccia costrette a ricorrere alle cure dei sanitari se la sono cavata con una prognosi di pochi giorni sulla lite sono in corso accertamenti ad opera del posto temporaneo di polizia della località balneare friulane della squadra mobile di Udine intanto ieri è comparso un annuncio anche sulla pagina facebook e sul sito del locale questa sera per motivi di forza maggiore siamo chiusi si legge ci vediamo sabato dopo la mezzanotte per una grande festa vogliate scusarci per il disagio grazie si ferma qui l'informazione del friuli Venezia Giulia tra poco le altre news vi ricordo che sabato saremo in diretta dalle 20.30 da Bibione per la finalissima di Miss Bibione e poi domenica dalle 16.30 invece saremo in diretta da San Michele Tagliamento da Bevazzana per la processione della Madonna del soccorso vi ringrazio per averci scelto rimanete con noi tra poco le altre news buona serata con Teleantena Grazie a tutti